E dal campionato femminile di volley ripartirà a sorpresa la carriera di Giulio Velasco, il CT della Generazione dei Fenomeni. A 71 anni ha scelto infatti di tornare in panchina, allenerà Busto Arsizio, contratto triennale con l'ambizione e l'obiettivo di rilanciare il club Lombardo in bocca al lupo. Dunque a Velasco, a Torino, gli assoluti.